Cristian Picco tra i migliori in campo quest'oggi nell'ottava vittoria di fila del Tolmezzo, ancora una grande squadra che ha lottato per tutta la partita portando a casa i tre punti. Sì è stata una grande partita, abbiamo meritato la vittoria anche se abbiamo subito un po' in qualche fase del gioco. Abbiamo portato a casa i tre punti, questo è l'importante. Una partita è incominciata con un primo quarto d'ora per prendere le misure degli avversari, poi il Tolmezzo è riuscita a sbloccarla e a portarsi già sul 2-0 dopo il primo tempo. Sì abbiamo grandi giocatori davanti che hanno fatto la differenza, anche se stentavamo un po' all'inizio a giocare palla, giocando avanti abbiamo trovato subito i due gol. Il mister ti ha dato fiducia dal primo minuto, una crescita alla tua costante, come ti trovi nel gruppo? Benissimo, gruppo fantastico, ho sempre trovato bene da quando sono arrivato. C'era oggi anche da rispondere dopo l'amara delusione della semifinale di Coppa è arrivata subito questa risposta? Sì, abbiamo giocato una bella partita. Ora c'è l'ultimo scoglio del girone di andata con la Sacilese appunto con la quale bisogna cercare subito il riscatto. Abbiamo vinto in casa l'altro giorno, anche se non abbiamo passato la fase, però possiamo vincere ancora anche domenica, no sabato. Sabato, bravo, hai fatto bene a ricordarlo, sabato l'ultima gara allo stadio di Tolmedo, li invito a tutti i tifosi a continuare a sostenere la squadra.